salvi amici bentornati con un nuovo appuntamento col pala normale prima di cominciare ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche detto questo cominciamo la donna del filmato è un insegnante di educazione fisica l'insegnante ha realizzato questo filmato per mostrare ai suoi studenti come allenarsi in palestra l'insegnante è da solo in casa e mentre svolge i suoi esercizi non si accorge che dietro alle sue spalle c'è qualcosa di spaventoso che sta passando proprio in quel momento il tutto viene ripreso dalla telecamera e la donna sembra non accorgersi praticamente di nulla questo è ciò che ha filmato strani rumori fuci disturbano il sonno di quest'uomo che si alza dal letto e decide di gironzolare per la casa cercando di capire cosa potrebbe essere a provocare quegli strani rumori il tutto viene ripreso dalla telecamera dell'uomo ciò che riprende però non è un animale ma qualcosa di più spaventoso questo è ciò che ha filmato il prossimo filmato è stato realizzato da un uomo che di mestiere fa il contadino l'uomo troverebbe ogni mattina uno dei suoi animali morti la cosa strana che l'uomo ha notato è che gli animali uccisi sarebbero privi di sangue come se la bestia avesse succhiato tutto il loro sangue a questo punto l'uomo decide di essere vigile e una notte sente dei rumori provenire dal recinto degli animali a quel punto si precipita sul posto una volta la riprende questa scena questo è ciò che ha filmato si sa che di notte le foreste sono davvero inquietanti se poi in quella foresta ci sono spiriti maligni che la infestano la cosa diventa ancora più spaventosa sembra che questi ragazzi però non temano la paura e decidono di avventurarsi in questa foresta pur sapendo che è infestata da uno spirito maligno una volta entrati sentono il pianto di un neonato i ragazzi incominciano a spaventarsi ma nonostante ciò decidono di andare avanti e si inoltrano nella foresta finché a un certo punto riprendono con la telecamera qualcosa di terrificante questo è ciò che hanno filmato c'o che ne? cheitsруж保 리 che certo ci siamo non ci obi ci siamo ci siamo ci siamo nada Alla, alla Nado lindì Alla 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 Hey Managaw Ah Managaw Alla 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 Entrati nella foresta I ragazzi sentono il pianto di un neonato Andando più avanti poi Notano dietro il tronco di un albero Una strana creatura La stessa sembra che abbia qualcosa in mano A quel punto i due ragazzi si spaventano e fuggono via Uno dei due cade a terra Ma si rialza subito Devo ammettere che questo filmato è davvero terrificante La cosa ancora più inquietante È sentire il pianto del neonato Siamo arrivati al termine ragazzi Il video finisce qui Noi come al solito Ci rivediamo alla prossima Ciao 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 Ciao